Ricorre quest'anno il cinquantenario dell'incoronazione della Vergine Assunta in attesa dei festeggiamenti che prenderanno il via ufficialmente il 26 luglio, da oggi è stato esposto al pubblico il diadema che si trova sul capo della statua tanto cala gli avellinesi. Il prezioso cimelio sarà visibile fino al 29 luglio nella vetrina della storica gioelleria Rossano lungo il corso per ricordare l'impegno dell'allora titolare il Cavaliere Guido Andrea Rossano che si recò personalmente alle Fonderie Vedele di Milano per consegnare l'ingotto in oro che venne trasformato nel prezioso diadema. Siamo orgogliosi e siamo stati molto contenti di poter accogliere la proposta che ci è stata fatta, di esporre la corona che mio nonno 50 anni fa ha contribuito affinché fosse realizzata, infatti ci ha spiegato la storia in maniera abbastanza dettagliata e quindi mi sembra bello soprattutto dare il senso della continuità per la nostra famiglia, per la città e quindi siamo molto contenti di poter neanche fornire un servizio e che non sarebbe esatto, ma comunque di dare la possibilità a tutti di vederla anche in maniera più visibile. Infatti già in tanti questa mattina di fedeli, ma non solo i passanti, si sono fermati proprio per osservarla e sono rimasti anche sorpresi per lo splendore che offre queste due. Per la bellezza, sì, assolutamente. Credo che sia anche abbastanza, sia più facile vederla da questa posizione perché se ne possono proprio ammirare tutti quanti i dettagli.